Prove tecniche in Via delle Frasche, uno dei snodi della città maggiormente trafficati, è stata attivata per fortuna in via sperimentale la rotonda all'incrocio fra Via San Giovanni, Via Vico e Via delle Frasche con l'obiettivo di eliminare il semaforo, uno degli ultimi rimasti in città e rendere più flughi dalla circolazione in quel tratto di strada. Inoltre si sta sperimentando l'idea del senso unico alla via che scende dal Ponticello in direzione Via Vico e Via San Giovanni. Ma quello che vediamo in questi giorni è l'aggravamento della circolazione, file chilometriche che partono da Via Monte Sabotino a centinaia di metri dall'incrocio, tempi triplicati di circolazione che indispongono gli automobilisti. Crediamo che vadano fatte le dovute riflessioni prima di rendere definitiva questa innovazione alla circolazione che ai primi collaudi sembra proprio infelice.